E con la fase 2, come abbiamo detto già tante volte, hanno preso via da qualche giorno anche le attività dei ristoranti, dei bar e le pizzerie. Mi trovo a Monte Corice e sono proprio in compagnia con Gabriele Catania, da due giorni aperti come ristorante e poi da qualche settimana come servizio d'asporto. Allora, innanzitutto come sta andando questa apertura e una tua impressione su quello che appunto abbiamo vissuto fino adesso? Questo è il primo fine settimana che abbiamo aperto i tavoli. Sono già due settimane che abbiamo iniziato il servizio d'asporto e comunque la gente del posto ha risposto bene. Siamo fiduciosi, nonostante sia un periodo difficile per tutto il nostro settore, che ha colpito questo virus che ci è rimasto spiazzato a tutti. Nessuno se l'aspettava una cosa del genere e infatti ci ha cambiato in tutti i sensi, anche le nostre abitudini ha cambiato. Quindi abbiamo dovuto riorganizzare il nostro lavoro anche in sicurezza, mettendo le distanze dei tavoli di un metro, anche schienale e schiena della sede di un metro e con misurazione del termometro per dipendenti, anche per i clienti. Quindi con un po' di attenzione però bisogna comunque stare attenti a questo virus invisibile purtroppo, che non sai da dove può arrivare. E quindi ci vuole un po' di attenzione però penso che nonostante gli sforzi fatti fino ad ora, comunque ne stiamo uscendo pian piano. Quindi ci vuole un altro po' di attenzione e penso che questa stagione almeno alla fine ne usciremo a vincere. Siamo vincitori. Comunque la gente ha risposto molto, non solo di Montecorici, tante persone di fuori sono venuti. Mi diceva poco anzi la signora, anche noi abbiamo degustato le tue specialità, quindi una buona risposta. Ricordiamo dove vi lo trovate, ho detto appunto a Montecorici, facciamo un invito a tutte le persone che possono venire qui a degustare delle ottime pizze, degli ottimi primi piatti, secondi piatti, un po' di tutto perché funzionate da ristorante e pizzeria, vero? Sì, sì. In massima sicurezza, distanza e così via. Facciamo un invito ai nostri telespettatori a venire qui da Catania, cucina e pizzeria. Ringrazio gli amici che fino ad ora ci hanno orato della loro presenza e vi aspettiamo nel massimo della sicurezza.